Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Marco Zanetti che mi chiede di parlare del film di Scott X del 1999 La neve cade sui cedri, tratto dall'omonimo romanzo bestseller di David Guterson, la storia più o meno è questa viene trovato praticamente morto un pescatore sulla costa dello stato di Washington e sconvolge praticamente tutta la comunità viene trovato dentro una rete quindi sembrerebbe un incidente ma una grossa ferita al capo e quindi pensano ad un omicidio e quindi pensano a tutti che possa essere Kazuo, un pescatore che di sicuro debba un bel legame con Carl e la sua famiglia intanto noi scopriamo che Ismael interpretato benissimo da Betano che in realtà avrebbe il modo forse di scolpare il nostro attraverso appunto una serie di prove che però porterebbero fuori altre cose che era meglio tenere sopite quindi parte il processo e tutto viene ricostruito a flashback ma in realtà ricostruisce questo giallo in realtà per ricostruire la situazione appunto dei giapponesi dopo Pearl Harbor perché la cosa più interessante è che vengono rinchiusi come se fossero dei nemici nonostante siano americani e in tutto questo viene raccontata in realtà la storia d'amore fra il nostro Ismael e Atsu e Misamoto e quindi è un film a flashback che ricostruisce un po' tutto con l'ambiente un po' tutto per farci capire insomma anche cosa sta succedendo agli altri personaggi che girano intorno a tutta la storia quindi un film a flashback che appunto viaggia di questo legal thriller per poi trasformarsi in realtà in un racconto storico un racconto drammatico anche in un melodramma alla fine un po' piagnone per un film assolutamente esteticamente ben fatto il nostro regista veniva da Shine che era un bel film quello australiano appunto che aveva tirato fuori il grande talento di Geoffrey Rush appunto della storia del pianista diciamo un po' folle e qui non riesce a doppiare diciamo così la forza dell'altro film perché seppur esteticamente il film sia assolutamente ben fatto niente da dire a una grandissima fotografia per esempio di Robert Richardson innevata in questo bellissimo diciamo così affresco visivo che il nostro X sicuramente sa mettere in scena peccato che la sceneggiatura è debole peccato che il ritmo sia abbastanza alorfio e che ci sia a noi parecchio e che nonostante ci siano alcune scene ben azzeccate il film non sia assolutamente una merda però è un film modesto alla fin fine proprio perché non riesce a farci affezionare alla storia non riesce ad andare più in là di un qualcosa di che sembra anche già visto in un certo senso la costruzione a flashback aiuta come aiutano chiaramente i personaggi il grandissimo Max von Sydow a fare l'avvocato difensore è veramente il migliore di tutti ma per un film recitato benissimo che ha delle belle musiche di James Newton Howard che appunto ha anche Sam Shepard fra gli attori James Cronwell, Richard Jenkins è un film che comunque ripeto non è brutto a vedersi però è un film che rimane un po' così e è sospeso è uno dei classici film che non riescono a beccare perfettamente l'atmosfera quando parla appunto del razzismo che c'era ancora fra americani, giapponesi, nippo-americani quella cosa lì forse è la cosa più importante e poi quando ci si sposta sul dramma diventa tutto un pochino artefatto e sul finale nonostante si riesca insomma in un certo senso a sbrigliare la matassa il tutto sembra veramente telefonato e sembra quasi un megaffine appunto per raccontare una storia d'amore e raccontare qualcosa che però non arriva fino in fondo secondo me al di là del reparto tecnico dei bei movimenti di macchina bei carrelli, dei bei dolli, delle facce degli attori però a un certo punto sembra di essere completamente usciti da una storia che pare non interessare dopo la prima ora e il film probabilmente dura anche un pochino troppo qualche cosa da tagliare, qualche veramente flashback inutile che andava accorciato di qualche secondo per arrivare a una durata un pochino più sostenibile per un film che secondo me non aveva bisogno delle due ore e passa quindi purtroppo un film abbastanza retorico che ci porta verso la conclusione lentamente e stancamente proprio perché non riesce assolutamente secondo me a dare veramente il colpo a dare veramente l'attenzione perché è retorico, ogni tanto è melenzo e quindi questo per me pigia veramente male ripeto nonostante sia un'ottima confezione nonostante siano molto bravi gli attori il film secondo me sbanda proprio per una sceneggiatura che non riesce a bilanciare il thriller che non è quasi mai teso a bilanciare il dramma che è sempre quasi o quasi sopra le righe né a bilanciare insomma diciamo così il racconto che il regista secondo me non si riesce a tenere bene tra le mani che dire di più, non è un film assolutamente brutto ripeto un'occhiata si può dare però è un film modesto secondo me non vi dovete aspettare altro il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale qui sotto c'è anche il puzzante, le super grazie per donare direttamente su Youtube seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio il giro in Italia ripeto questo La neve cade sui cieli del 1999 del nostro buon Scott X è un film come tanti altri che infatti ha fatto la fine di tanti altri ovvero è stato dimenticato e stavolta secondo me anche giustamente visto che è comunque un film ripeto mediocre che sta lì a qualcosa di buono si merita forse una visione per le scenografie per qualche attore ma alla fin fine comunque il film è una palla al piede